di ciò che dicono. Il fascismo è dentro le fabbriche, il fascismo è sul lavoro, il fascismo è nelle istituzioni, il fascismo è nelle banche, il fascismo è in ogni scelta, il fascismo può essere una guerra umanitaria, il fascismo può essere l'impedialismo, il fascismo può essere il sessismo. Ora noi dobbiamo decidere cosa dire, come combatterlo e in che modo farlo? Io credo che è fondamentale non perdere mai di vista il faro della Costituzione Repubblicana. Oggi noi ricordiamo le quattro giornate di Napoli, io non so quanti nella nostra città, quanti nel nostro paese sanno fino in fondo il valore delle quattro giornate di Napoli. Napoli è l'unica città d'Italia che si è liberata autonomamente dall'occupazione nazifascista. Poi sono arrivati gli alleati, c'è un manifesto che girava in due giorni dopo le quattro giornate di Napoli che diceva Napoli eroica e si esortavano tutte le città d'Italia a seguire l'esempio di Napoli. Curzio a una parte quando descrive le quattro giornate di Napoli dice che i protagonisti iniziali di quella stagione di ribellione e di rivoluzione sono stati le donne e i giovani. Non è un caso, le donne, i giovani e gli operai sono stati protagonisti della stagione dei movimenti degli anni 70 del secolo scorso. Qualche mese fa gli operai, le donne e i giovani sono stati protagonisti delle tre più imponenti manifestazioni democratiche che la storia contemporanea ha conosciuto nel nostro paese. La manifestazione contro alcune scelte che un'importante azienda automobilistica italiana voleva fare, una manifestazione che ha portato centinaia di migliaia di persone nelle piazze ricordando che uno dei valori costituzionali, il primo, l'Italia è una repubblica democratica che si fonda sul lavoro e che lavoro è un diritto e non è un privilegio che ti concede che hai il potere politico o il potere economico. La manifestazione delle donne che hanno ricordato una persona autorevole, tra virgolette, che nel nostro paese non vince la logica dell'utilizzatore finale ma vince l'articolo 3 della Costituzione che dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di razza, di sesso, di religione ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto rendono i cittadini non uguali di fronte alla legge. Un grande scrittore contemporaneo parlò della funzione rivoluzionaria del diritto a proposito della seconda parte dell'articolo 3, come è importante il ruolo della Repubblica e dello Stato di fare ogni cosa per rimuovere gli ostacoli che di fatto rendono i cittadini diseguali. Invece quante volte assistiamo a interventi anche legislativi che non solo non rimuovono quegli ostacoli ma li rendono ancora più forti e duri. L'altra è la manifestazione dei giovani che hanno protestato contro il precariato, hanno protestato contro la riforma Germini e hanno fatto sentire la voce di giovani che pensano. Io il consiglio che posso dare è quello di pensare sempre. La scuola deve essere il luogo ideale insieme ad altri in cui si esercita un altro articolo fondamentale della nostra Costituzione, l'articolo 21, la manifestazione del pensiero è libera. Non vi uniformate mai al pensiero dominante o al pensiero conformista. Bisogna sempre pensare criticamente aprendosi al confronto rispettoso con gli altri ma senza mai runciare a dissentire. Il dissenso certe volte procura anche pagare prezzi alti. Nella storia per dissentire e per resistere ci sono persone che sono andate in carcere. Sandro Bertini che poi è stato Presidente della Repubblica, Antonio Gramaci che dal carcere ha scritto le lettere dal carcere, uno dei libri più belli. Sul sangue della resistenza repubblicana e democratica e partigiana sono stati scritti delle parole bellissime. Io non so se avete avuto modo di leggere ma penso sicuramente di sì. La lettera di un grande intellettuale scrittore toscano del secolo scorso, Piero Calamandrei, la lettera ai giovani sulla Costituzione. La Costituzione non è una cosa morta o una lettera morta. La Costituzione è viva e nata sul sangue di chi ha fatto la resistenza e la vita di quella Costituzione dipende esclusivamente da voi e da noi. Siamo noi che facciamo vivere la Costituzione, che la legge è uguale per tutti. Non è un principio che rimarrà sempre. Se rimarrà sempre dipenderà dalla capacità, dalla mobilitazione democratica del popolo di far rimanere vivo quel principio. l'Italia è una e indivisibile. Se rimarrà una e indivisibile dipende da noi. Tutto dipende da noi e la vita della Costituzione repubblicana dipende da noi. Non è un caso che chiedere il potere la vuole modificare, perché la Costituzione è un faro democratico. Faccio un esempio. Qualcuno di voi avrà letto sicuramente il dibattito che c'è in questo periodo sulla modifica della Costituzione in un articolo secondo me molto importante. Siccome vedevo che tu parlavi di classe operaia e di lotta di classe, l'articolo 41 della Costituzione che dice il primo e il secondo comma, vanno letti tutti e due insieme. L'iniziativa economica, privata e libera, poi dice il secondo comma, ma non può mai andare in contrasto con l'utilità sociale. Qualcuno vuole eliminare il secondo comma e scrivere semplicemente, lasciare scritto semplicemente l'iniziativa economica, privata e libera. Non va bene, perché noi dobbiamo sempre avere come obiettivo il bene comune e l'utilità sociale. Una delle prime cose che abbiamo voluto fare al comune è quello di dire che l'acqua che io dopo bevo è acqua pubblica, è un bene comune. L'acqua non può essere privatizzata, non può essere oggetto del profitto. Ci sono alcuni beni che non possono essere oggetto di profitto e avere un prezzo, perché altrimenti ci può essere qualcuno che non se la può permettere. E noi oggi dobbiamo ricordare in un paese cosiddetto occidentalizzato, democratico, esempio nel mondo, che milioni di persone muoiono perché non hanno acqua e non hanno cibo. E invece noi ogni giorno leggiamo i giornali e dobbiamo terrorizzarci dall'idea che le borse sono in difficoltà, che i mercati carano. Andate a parlare di borsa e di mercati e di speculazioni nel centro Africa, nel sud dell'Africa, nell'America Latina. Vogliamo iniziare a pensare che il bene comune non è consumare tanto, troppo e sempre. Bene comune non è avere, ma essere. Non è chiederci quanto hai, ma chi sei, che cosa hai dentro. Conta più apparire o essere? Conta più essere una velina o come quei manifesti che dicono io sono una escort e non sono una ragazza facile o conta di più essere operaio, studente o persone che si alzano la mattina e devono vedere come fare per portare qualcosa a casa.